9 gennaio 12. Eletti, amici cari, guardate con attenzione i segni che vi offro vi indicano una strada da seguire. Seguitela, senza deviare né un poco a destra né un poco a sinistra. Sposa amata, stai guardando bene i segni che ti offro, per capire meglio la situazione mondiale e scegliere sempre la strada che indico? Mi dici dolce amore, Santissimo Gesù, vedo segni grandi ed importanti indicano e tracciano una via luminosa da seguire, senza deviazioni. Mi pare di capire che questa strada assomiglia a quella di alta montagna dove non si può deviare, senza rischiare di precipitare in un baratro senza scampo. Tu, amore infinito, tracci una strada e la rendi luminosa in modo, che ognuno la possa vedere e percorrere. Amore Santissimo, tu vedi i pericoli, che corre l'umanità in questo momento e leggi anche i cuori umani, sai i pericoli e conosci ogni cosa. Dolce Gesù, il tuo cuore, tutto amore, vuole la salvezza delle anime e che nessuna si perda e indichi la strada perché ognuno la imbocchi. Non solo questo fai, Santissimo siccome i pericoli sono grandi, ecco la Madre, ecco la stella fulgente e bella, che fa da guida l'umanità intera, come la cometa i Re Magi. Il mio piccolo cuore trabocca di gratitudine ed amore per te, oceano di tenerezza. Sia tu, presto, conosciuto più a fondo dall'intera umanità. Sia tu, dolcissimo, lodato dall'intera umanità, ringraziato ed adorato, ogni uomo faccia del suo piccolo cuore una sorgente di amore per te e di profonda adorazione. Sposa cara, se questo gli uomini di questa generazione facessero, ti dico che subito la terra si ricoprirebbe di nuove gemme e di fiori fragranti, cesserebbero il lamento ed il grido di dolore ed in ogni strada scorrerebbe la gioia, la grande gioia, la vera gioia, simile a quella del Paradiso. Mi dici adorabile Gesù, temo che gli uomini, che non hanno compreso, ancora, continuino a non comprendere. Temo, dolce Gesù, che questo accada e la terra resti una valle di lacrime e di dolore. Piccola mia sposa, va col pensiero alle mie promesse e le hai presenti? Mi dici dolce, santissimo Gesù, le tengo ben ferme nel cuore e nella mente e le accarezzo con gioia. So che tutte si avvereranno. So che questo accadrà, ma vorrei che l'umanità, sfinita e spossata, vorrei che non dovessi attendere ancora a lungo per vedere il tuo cambiamento, quello da te, amore, operato. Temo le trappole del nemico, astuto ed omicida, e temo anche la insipienza degli stolti della terra. Sposa amata, bene hai detto riguardo alle trappole del nemico e della stoltezza degli uomini. Il mio nemico, infatti, sta confezionando le sue trappole con grande abilità e destrezza per far cadere in esse gli uomini e prendersi le anime. Questo sta facendo, piccola mia, ma secondo te, può fare ciò che vuole, quando vuole e come vuole? Mi dici adorato, adorato, adorato Gesù, ho ben compreso ciò che intendi dire e gli può confezionare trappole, ma cade in esse solo. Chi vuole farlo, perché non ha accolto te, amore, nel suo cuore? Ecco chi cadrà nella più terribile rovina. Chi non ha voluto accogliere te nel suo cuore e ti ha respinto. Il nemico si bila ed è ferocissimo, ma ogni suo progetto si realizza solo col tuo permesso, dolce amore, e tu permetti soltanto ciò che serve alla salvezza delle anime e non ciò che nuoce. Dulce Gesù, tu sei il Signore assoluto della storia umana, tu ne hai le redini. Questo pensiero mi dà gioia e speranza. Avverrà solo ciò che tu permetti a cada e mai qualcosa che non sia nella tua permissione. Dulce amore, opera secondo la tua infinita sapienza, secondo la tua tenerezza. Si compia presto il tuo progetto, quello di fare dell'umanità intera un unico grege sotto un solo pastore santissimo. Tu sei il pastore, che guida l'umanità verso la salvezza. Sposa cara, bene hai parlato, perché il mio spirito è in te. Resta, felice, nel mio cuore e godi le delizie del mio amore fedele ed eterno. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, voglio che tutti siate di Gesù e vi invito a seguirmi per giungere a lui. Egli è la vostra gioia. Egli deve essere il tutto da possedere. Egli si offre a voi con generosità. Pensate, pensate, figli amati, al dono sublimissimo dell'Eucaristia. Accostatevi con frequenza, degnamente gli vuole farsi un tutt'uno con voi. Pensate a questo figli amati? Pensate al dono che avete ricevuto e potete avere ogni giorno? Lasciate che Gesù vi trasformi e vi plasmi e accostatevi con gioia alla mensa eucaristica. Lo state facendo, figli amati? Mi dice la piccola figlia madre cara, la mensa è sempre allestita, ma pochi ancora hanno compreso la grandezza di tale cibo santissimo. Pochi ancora si accostano regolarmente, giorno dopo giorno, per essere sempre più simili a Gesù. Madre Santissima, aiuta il mondo a capire che Gesù è l'unico Signore da servire e da adorare. Il mondo ancora non ha capito, se lo avesse capito, anche le pietre griderebbero con gioia il suo nome santissimo e sublimissimo. Figli amati, voi, che avete capito, fate capire agli altri e siate i testimoni arditi del Vangelo in ogni angolo della terra. Voi fate la prima parte, il resto lo farà Gesù, a voi chiede solo ciò che potete fare, egli completterà l'opera. Figli del mondo, cogliete tutti questo tempo favorevole, cogliete tutti l'attimo che Dio vi dona. Ogni giorno si è volto a fare la volontà di Dio con gioia. Egli vuole la vostra ardita testimonianza vedendo la gioia del vostro cuore e molti vi seguiranno e voi li porterete a Gesù. Volete essere testimoni, veritieri e gioiosi, del Vangelo di Gesù? Mi dice la mia piccola certo, madre amata, certo che lo vogliamo essere, desideriamo che il mondo intero divenga adoratore di Gesù e la terra sia il suo meraviglioso giardino. Figli amati, il mio cuore vi abbraccia tutti. Insieme, cantiamo la lode a Dio ed il ringraziamento per le meravigliose opere che compie. Adoriamolo nel profondo dell'anima. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima